Ennio Marianetti, settimana di tennis importante al suo circolo a Chieti e adesso fine settimana entriamo nel vivo del torneo che assegnerà una wildcard. Ma io direi settimana importante per la città di Chieti che sta ospitando un torneo di un prestigio e di un fascino notevole, quindi è una settimana importantissima per noi del tennis Chieti, per tutta la città che sta ospitando e accogliendo tantissimi giocatori provenienti da tutta Italia. Chi vincerà avrà la wildcard per le qualifiche a Roma? Sì, la concorrenza è alta, il livello è notevole e chi vince andrà fuori talico a giocare. Questa sera avete anche fatto delle premiazioni importanti? Beh, io devo ringraziare la federazione che in primis ci ha dato l'opportunità di organizzare questo torneo, poi nella nostra cena di gara del torneo ha inserito delle premiazioni molto importanti e significative dei giudici arbitri che svolgono l'attività da ufficiale di gara da più di un ventennio, quindi per noi è un ulteriore motivo di vanto. Tra l'altro questa è la settimana di Chieti, tra dieci giorni si va a Francavilla per la terza edizione degli internazionali. Beh, devo dire che per la provincia di Chieti la stagione è piena di impegni, prima l'Open BNL, poi c'è il 50.000 a Francavilla, poi ci sarà la Lazzaroni Cup ad agosto e poi insomma ci sarà da divertirsi per tanta gente. Grazie. 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 Grazie.